Fa ingresso il Presidente della Repubblica. A inizio l'incontro di studio in ricordo di Loris D'Ambrosio. Prende la parola la Presidente della LUIS, Emma Marcegaglia. Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del Senato, Signor Presidente della Corte Costituzionale, Signor Ministro della Giustizia, Autorità, Professori, Studenti, Cari Amici. Oggi, con questo incontro di studio, la nostra Università ricorda, alla presenza del Presidente della Repubblica e di altre cariche istituzionali, la figura di Loris D'Ambrosio, che è stato il suo Consigliere per gli Affari dell'Amministrazione della Giustizia dal maggio del 2006 fino alla prematura e tragica scomparsa il 26 luglio 2012. Scorrendo l'elenco degli incarichi che il Dottor D'Ambrosio ha ricoperto nel corso della sua carriera in magistratura, è evidente la molteplicità e la rilevanza delle funzioni che egli ha svolto, sia durante l'attività giudiziaria, quale sostituto procuratore a Roma impegnato in difficili e delicate, anche per le minacce e intimidazioni cui venne fatto oggetto, indagini sul terrorismo, sia quale magistrato fuori ruolo con incarichi presso le più alte istituzioni della Repubblica. L'impegno del Dottor D'Ambrosio a servizio delle istituzioni e l'importanza dei contributi che egli ha fornito saranno esaminati dal Presidente Lupo. Mi sembra giusto da parte mia sottolineare come nel Dottor D'Ambrosio, accanto alla profonda, straordinaria conoscenza delle materie giuridiche e dei meccanismi di funzionamento delle istituzioni giudiziarie, convivessero una forte tensione morale e una continua ricerca di soluzioni giuridicamente ineccepibili, ma anche equilibrate ed efficaci. Insomma, noi vediamo proprio il Dottor D'Ambrosio come uomo delle istituzioni, straordinario uomo che ha lavorato proprio per il bene delle istituzioni del nostro Paese. Egli ha dedicato una parte consistente della sua vita alla lotta alla mafia, non solo a parole, non a parole, ma con i fatti. Prima collaborando strettamente con Giovanni Falcone, direttore generale degli affari penali al Ministero della Giustizia è stato uno dei principali artefici delle normative antimafia fondamentali, strumenti indispensabili per il contrasto alla criminalità organizzata. E su tale aspetto dell'opera del Dottor D'Ambrosio, come sul suo contributo alla redazione del Codice di Procedura del 1989, si soffermerà il Professore Fiandaca. Una delle peculiarità del Dottor D'Ambrosio è certamente l'aver saputo coniugare l'attività di magistrato impegnato nelle istituzioni a un assiduo studio e approfondimento delle tematiche giuridico-penali, sostanziali e processuali, non solo per comprenderne la criticità, ma anche per suggerire, alla luce delle sue multiformi esperienze professionali, soluzioni per superarle. È stato un impegno questo che non è rimasto chiuso nelle stanze degli uffici dove ha prestato la sua opera, ma che si è tradotto sia in pregevole diffuse pubblicazioni che nella sua decennale e importantissima attività di insegnamento del diritto penale presso la nostra Università. Sulla figura del docente D'Ambrosio e sullo speciale, bellissimo rapporto che egli ha saputo instaurare con i suoi studenti, si soffermerà in modo particolare la Professoressa Severino. Non posso però non ricordare già in questo indirizzo di saluto, con grande rimpianto, le doti speciali del Professor D'Ambrosio, con il legame fortissimo che lui ha avuto con la nostra Università. Lui ha lavorato qua con noi per dieci anni e noi ricordiamo con grandissimo affetto il suo entusiasmo, la sua passione, la capacità di coinvolgere i giovani, la capacità di coniugare, di trasmettere a loro non solo la sua grande conoscenza delle materie giuridiche, ma anche l'indiscutibile rigore morale che lo ha sempre caratterizzato. E ricordiamo anche la grande disponibilità, la sincera gentilezza con cui si rapportava non solo con gli studenti, ma anche con i professori, i collaboratori e il personale del Dipartimento. La sua scomparsa è stata una grandissima perdita per la sua e per la nostra Università. Nel chiudere colgo anche l'occasione per salutare la famiglia, ringraziando molto la moglie e i figli per essere qui e unendoci proprio al ricordo di questo straordinario uomo, vi siamo vicini e vogliamo continuare a ricordarlo come grande uomo e grande uomo che ha fatto anche grande la nostra Università. Grazie. Applausi Prende la parola la professoressa Paola Severino Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, ce ne sono tante oggi che non posso elencarle, vorrei soltanto offrire il mio saluto di augurio al nuovo Presidente della Corte Costituzionale, al nuovo Giudice Costituzionale, nonché per un legame particolare al Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri. Io ringrazio tutte le autorità presenti perché con la loro presenza hanno testimoniato che questa iniziativa è vera, condivisa e sentita nei più alti livelli delle istituzioni. A distanza di oltre un anno nel ripercorrere l'esperienza accademica di Loris D'Ambrosio e soprattutto il forte e appassionato legame con gli studenti, ho provato la stessa intensa commozione che provai quando, come Ministro della Giustizia, ebbe il sofferto compito di ricordare l'uomo delle istituzioni. Una personalità e professionalità poliedrica, quella di Loris D'Ambrosio. Ciascuno di noi ha avuto con lui un rapporto culturale e personale diverso, ma credo che un filo conduttore possa essere individuato per tutti nella sua straordinaria attitudine al dialogo e al confronto, nella sua variegata cultura giuridica, nella sua instancabile dedizione e indiscussa ricchezza di doti umane. Nel ripercorrere la sua esperienza in questa Università, iniziata nel 2002 come docente di diritto penale, voglio anzitutto ricordare la stima e prima ancora l'intenso affetto che tutti i suoi studenti gli hanno sempre manifestato e continuano a manifestare oggi, essendo presenti a questa cerimonia in un numero elevatissimo. E credetemi, per chi ha la fortuna di cercare di trasmettere valori in cui ha sempre creduto e si è riconosciuto e al tempo stesso la grande responsabilità che deriva da tale compito, non ci può essere il riconoscimento più grande dell'ammirazione e del rispetto dei propri allievi. Insegnare, infatti, significa trasmettere agli altri le nostre conoscenze ed esperienze. E Loris D'Ambrosio rappresenta proprio il prefetto esempio di chi ha saputo mettere a disposizione degli altri le grandi doti di studioso del diritto, le elevate competenze maturate nel corso delle sue numerose esperienze professionali, davvero uniche per varietà e rilevanza. Pubblico Ministero presso la Procura di Roma, destinato poi all'Alto Commissariato per il coordinamento alla lotta alla mafia, approdato quindi al Ministero della Giustizia, dapprima alla Direzione Generale Affari Penali, a fianco di Giovanni Falcone e successivamente capo di gabinetto di ben quattro ministri, infine consigliere giuridico del Presidente Ciampi e del Presidente Napolitano, che lo nominò direttore dell'Ufficio per gli Affari dell'Amministrazione e della Giustizia. Per Loris D'Ambrosio lo studio del diritto non è mai stato fine a se stesso, avendolo egli sempre posto al servizio delle istituzioni e in questa Università a disposizione dei suoi studenti e di tutti noi. Ed è per questo che ho coltivato l'idea di una borsa di studio e ricerca a lui intitolata. L'idea è stata tempestivamente accolta dall'Associazione Amici della LUIS, che ha istituito una borsa per il miglior diplomato del Master di Diritto Penale di Impresa sul tema delle garanzie sostanziali e processuali nel diritto penale di impresa. Un tema, quello delle garanzie, particolarmente caro al Professor D'Ambrosio, che non dimenticava mai di sottolineare ai suoi studenti che il processo penale è fortemente afflittivo e deve dunque essere assistito da altrettanto forti garanzie per il cittadino. Voglio pertanto ringraziare l'Associazione Amici della LUIS e in particolare il suo Presidente per la sensibilità e la tempestività con cui hanno compreso l'importanza del tema ed hanno deciso di finanziare un'importante ricerca su di esso. D'altra parte, tutto ciò richiama alla mente il metodo di insegnamento del Professor D'Ambrosio, caratterizzato non solo dall'approfondimento teorico, ma anche da una particolare attenzione all'applicazione pratica delle norme penali. Il dettagliato esame degli aspetti giurisprudenziali compendiati nelle innumerevoli dispense messe a disposizione degli studenti e predisposte con cura e passione, nonostante la mole dei suoi impegni, rappresentava un momento importante del suo corso universitario, un modo per fornire a chi ascoltava una dimensione viva del diritto, non rinchiuso in formule astrate, ma calato nella realtà applicativa e nella pratica quotidiana. A tutto ciò si univa la sua grande capacità comunicativa, la grande passione e carica umana che riuscivano a calamitare con estrema naturalezza l'attenzione degli studenti, attratti dal modo innovativo di analizzare le fattispecie penali, le loro diverse sfaccettature e i risvolti pratici, affascinati inoltre dalla personalità di un uomo che aveva profuso la sua attività di studioso anche accanto a Falcone, che lo aveva voluto al Ministero della Giustizia come direttore dell'Ufficio Studi per porre le basi normative di una nuova strategia antimafia. Entrambi, infatti, erano convinti che il Paese e le istituzioni potevano soccombere alla criminalità organizzata se non si dotavano di strumenti normativi altrettanto organizzati. E proprio al loro impegno dobbiamo la nascita della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Investigativa Antimafia, l'introduzione del doppio binario per i processi contro la grande criminalità e del regime carcerario del 41 bis. E ne è personale testimone il Presidente del Senato presente qui oggi anche per ricordare le straordinarie elezioni che Loris D'Ambrosio teneva chiamando accanto a sé tutti coloro che la mafia avevano combattuto in prima persona. Come lui stesso ricordava, spesso al termine delle elezioni gli studenti gli chiedevano notizie del suo lavoro e del suo rapporto con Giovanni Falcone. Questa tensione da parte dei giovani che all'epoca della strage di Capaci erano soltanto dei bambini lo riempiva di speranza. Era la dimostrazione che quei fatti, oltre ad essere vivi nella memoria di chi ne è stato attore e spettatore, costituivano e costituiscono patrimonio di interesse anche per le giovani generazioni. Rivolto ai frequentatori del suo corso, Loris D'Ambrosio scriveva «Quel che più conta è scongiurare ogni rischio di rimozione di vicende assai sconvolgenti vissute dal Paese. Vi confortano il vostro interesse e l'attenzione che prestate a questi argomenti anche durante le elezioni. La grande criminalità non può essere contrastata solo dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. Va contrastata innanzitutto attraverso una forte mobilitazione civile che deve coinvolgere in primo luogo le giovani generazioni. E proprio questo ha fatto Loris D'Ambrosio con i suoi studenti. Le ha coinvolti, attraverso il sapere e il carisma, in un movimento culturale e morale, per usare le indimenticate parole di Paolo Borsellino, a sostegno della legalità. Un movimento nato dalla conoscenza e dall'analisi critica del diritto penale, compresa l'affascinante fase della sua applicazione ai casi concreti, casi interessanti e al tempo stesso drammaticamente impressi nella memoria storica del nostro Paese. Custode geloso della legalità, ha insegnato a tutti noi, e non solo agli studenti, con il suo esempio di vita e fino al giorno della sua morte, come adempiere a funzioni elevatissime, cercando, come ho già detto, il giorno dei suoi funerali, e come oggi suona ancora più attuale, soluzioni costruttive ed equilibrate, in un periodo in cui la polemica rischia di travolgere la ragione e di trasformarsi in sterile scontro, anziché volgere verso una seria meditazione sulla giustizia, sui danni che adesso reca la cultura del sospetto, sul ruolo di una magistratura che sempre più si trova a dover riaffermare le proprie garanzie di autonomia e di indipendenza, non solo su ciò che fa, ma anche su ciò che appare e su come appare. Anche per questo, Loris D'Ambrosio era amato e stimato, non soltanto dai suoi studenti, ma anche da tutti i colleghi di questo auteneo, dai collaboratori della sua cattedra e dall'intero mondo accademico. Autorevole, ma prima ancora discreto, garbato, sempre disponibile e pronto al confronto, o ancora vivo, con commozione, il ricordo delle nostre discussioni, serie, appassionate e costruttive, ma a volta leggere e scherzose. Quel rigore, quella leggerezza e quella disponibilità al dialogo e al confronto ci mancheranno. Rimane intangibile ed immutato l'enorme patrimonio umano e scientifico che Loris D'Ambrosio ci ha lasciato in eredità, e che, sono certa, contribuirà ad essere per tutti noi di esempio. Grazie. Prende la parola il professor Giovanni Fiandaca. Intervenire in questa giornata di studio concepita per ricordare Loris D'Ambrosio non mi è facile. Innanzitutto, perché le cose da dire potrebbero essere tante, e selezionare anche per ragioni di tempo quelle da dire effettivamente qui comporta una scelta non agevole. anche perché, quando si parla con un certo senso di colpa da sopravvissuti, di chi ormai non c'è più, è bene anche guardarsi da un rischio. Il rischio di strumentalizzare la rievocazione della persona scomparsa per fini propri, per fini personali, sia pure legittimi. E questa è una questione di responsabilità morale che è stata lucidamente tematizzata consentitemi la citazione dal filosofo Jacques Derrida nel suo ultimo libro pubblicato nel 2003 Prima di morire, libro che ha la singolare caratteristica di raccogliere testi dedicati agli amici scomparsi e che rega come eloquente titolo ogni volta unica la fine del mondo. Derrida vi esprime l'idea e insieme il sentimento che la scomparsa di ogni persona è simile alla scomparsa di un mondo unico, proprio perché unica, infungibile è l'identità insieme con l'universo personale di chi ci lascia e perciò incolmabile è anche la perdita. Non posso pretendere né avrei titoli per ricostruire il complessivo profilo identitario di Lorsi Lombrosio. Nella mia esperienza personale, fra poco accennerò a come l'ho conosciuto, egli in persona, permettetemi di parlare al presente, doti o virtù che proverei a sintetizzare così. Competenza, equilibrio, sobrietà, rigore, ma al tempo stesso sensibilità e attenzione verso gli interlocutori. È per questo che il dispiacere per la sua scomparsa si carica, direi, di un sovrappiù di amarezza a causa del peculiare e ben noto contesto contingente in cui l'avento doloroso si è verificato. Contesto fatto di illazioni e di strumentalizzazioni in debite in un gioco perverso politico, giudiziario e mediatico. Questo tipo di interazione perversa meriterebbe un livello di attenzione e di riflessione, anche da parte di noi studiosi del diritto, ben maggiore di quanto per solito non avvenga. È un discorso il cui sviluppo, però, ci porterebbe molto lontano. Ho conosciuto di persona d'Ambrosio circa un quindicennio fa, potremmo dire nell'era politica dell'Ulivo, è trascorso quasi un secolo, nel periodo in cui egli ricopriva il ruolo di capo gabinetto al Ministero della Giustizia. E' precisamente nel momento della successione tra i ministri Flick, Flick è qui presente oggi, lo saluto ancora, e Oliviero Diliberto. Su iniziale idea di Flick, poi tradotta in realtà da Diliberto, fu infatti istituita una commissione ministeriale di studio sulla criminalità organizzata, di cui mi si volle a torto o a ragione proporre la presidenza. E nello svolgere questo incarico, per me nuovo, avevo da poco esaurito il mandato di componente laico del CSM, è in questa occasione che appunto mi accadde di avere come costante interlocutore istituzionale proprio l'Oris d'Ambrosio. Non solo ovviamente come continuo punto di riferimento orientativo, non solo ovviamente come possibile tramite col ministro, col guardia di sicilio di allora, ma aggiungerei come continuo punto di riferimento orientativo rispetto agli obiettivi e ai contenuti dei lavori della commissione da me presieduta. Nello svolgere questa funzione, egli mostrava innanzitutto una notevole competenza tecnica, quale gli derivava anche, come è stato prima ricordato, dalla sua precedente esperienza di magistrato impegnato in processi di criminalità collettiva. Ma vi è di più ed è un punto che vorrei sottolineare. Egli aveva anche abbastanza chiare le linee di politica criminale che riteneva dovessimo, come componenti della commissione di studio, adottare nel proporre nuovi interventi normativi nel campo della criminalità organizzata. Ricordo con precisione che gli stava molto a cuore che noi riuscissimo a elaborare proposte per redigere una sorta di codice settoriale o testo unico destinato a raccogliere in maniera finalmente ordinate e sistematizzata tutte le numerose disposizioni normative sparse nell'ordinamento, esalative però sia alla criminalità organizzata di stampo comune sia alla criminalità organizzata di stampo terroristico. Una bella e difficile impresa, in effetti, che egli suggeriva e incoraggiava in nome di una duplice esigenza, promuovere da un lato il livello delle garanzie, come è stato prima sottolineato anche l'attenzione di D'Ambrosio per le garanzie, e dall'altro promuovere l'efficacia complessiva dell'azione di contrasto. Ecco che in questo modo D'Ambrosio manifestava appunto la sua duplice sensibilità di giurista e di politico del diritto penale. Dal canto mio, come studioso, ero preoccupato, lo confesso, di mantenere sufficienti spazi di autonomia politico-culturale e scientifica, pure nel contingente ruolo, se così si può dire, del consigliere del principe. E opponevo in verità alcune riserve critiche, in particolare all'idea di fare confluire insieme la disciplina della criminalità organizzata comune e di quella politica. E' il rammento che spesso all'inizio nel muovere queste obiezioni provavo un certo imbarazzo e un pizzico di soggezione. Il capo di gabinetto che mi stava davanti mi appariva infatti per un verso convinto della bontà delle sue tesi che erano diverse dalle mie e dotato anche di intrinseca autorevolezza, ma per altro verso a suo modo mi appariva umile e alieno da forme di accanimento impositivo. Alla fine di circa due anni di lavoro la commissione a cui facevo riferimento ha presentato un progetto articolato di proposte che però poi rimase nel cassetto perché il sopravvenuto governo di centro-destra nutriva verosimilmente una sorta di diffidenza politica nei confronti delle proposte presentate da commissioni nominate dal precedente governo di centro-sinistra. E' anche vero però alcune di queste proposte fatte alla commissione sono state successivamente riprese dagli estensori del cosiddetto codice antimafia varato nel 2011. L'esperienza di collaborazione ministeriale fin qui ricordata ha fornito a me l'occasione principale di frequentazione personale con l'Oris di Lambrosio. Però ho motivo di ritenere che da questa frequentazione sia nata qualche cosa di più di una reciproca stima e professionale perché tra di noi è rimasto negli anni acceso un filo di comunicazione alimentato da interesse reciproco e da attenzione affettuosa. Questo filo si traduceva in alcuni contatti sia per iscritto sia telefonici che abbiamo mantenuto durante gli anni. Ho già detto della notevole competenza professionale e della elevata preparazione giuridica non digiunte da una elevata sensibilità anche per le scelte di politica criminale sottostanti agli istituti penalistici. Mi resta da aggiungere come è stato già osservato che questo duplice volto di Glorsi d'Ambrosio si rispetta ulteriormente nelle sue qualità di studioso così come testimoniate dalle svariate pubblicazioni di cui autore. Viste nell'insieme si tratta di pubblicazioni in cui l'analisi dottrinale interagisce strettamente con un approccio di tipo prammatico. Questa propensione a far virtuosamente interagire dottrine e prassi testimoniata anche dal bel manuale di diritto penale sottintende due preoccupazioni che ben riflettono la personalità intellettuale e morale di D'Ambrosio. Contribuire ad una migliore conoscenza del diritto penale da parte degli operatori pratici non solo per promuoverne la formazione professionale ma anche per orientarne l'attività ad un rigoroso rispetto del principio di legalità quale fondamentale presidio di uno Stato di diritto. Consentitemi per concludere uno spunto di riflessione a carattere molto generale che qui posso solo accennare e lo faccio perché confido che proprio una persona come Lores di D'Ambrosio potrebbe trovarsi in sostanziale sintonia con quanto sto per dire. Da un lato specie negli ordinamenti liberal-democratici il diritto come sappiamo è destinato a fungere da limiti all'esercizio del potere dello stesso potere politico e dunque dal strumento di prevenzione e repressione dell'abuso. Mi è anche vero per altro verso che in particolare a partire da quando il diritto trova la sua prevalente fonte nelle leggi liberate dal sovrano politico di turno compreso quello democratico tra diritto e politica intercorrono rapporti molto complessi. Sono infatti strettamente collegati non possono esistere l'uno senza l'altro ma vanno tuttavia tenuti separati. I confini tra loro sono non a caso ricorrentemente contesi e alternativamente ma non dirrato contemporaneamente sono teatro di invasioni e di guerre di difesa. Può diventare un campo di battaglia persino il modo di interpretare i principi delle stesse costituzioni scritte sicché a seconda delle contingenze storiche i rapporti tra politica e diritto sono ora più pacifici ora più confliggenti ora più distanti ora più ravvicinati. Quella che viviamo ormai da anni nel nostro Paese è per ragioni in gran parte note una contingenza storica nella quale non solo esiste un aspro conflitto ma la distanza tra politica e diritto tende a destringersi nel senso che le due sfere tendono spesso a confondersi il diritto rischia di smarrire quasi del tutto la sua autonomia perché frequenta la tentazione di strumentalizzarlo per fini politici di parte e questa tentazione purtroppo è in qualche modo in misura trasversale agli schieramenti politici d'altra parte perché il diritto riguadagna una credibile funzione di argine al potere e all'abuso non basta neppure ricorrere ad una certa retorica della legalità come arma di battaglia politica contingente ridare voce e spazio al diritto implica ben altro un nuovo e diffuso impegno collettivo un'autentica svolta politico culturale che coinvolga al tempo stesso la politica nel suo insieme gli interpreti applicatori delle leggi e la società si tratta in ogni caso di un processo di rieducazione giuridica non facile e dai tempi non brevi riusciremo nel nostro paese a compiere passi avanti in direzione di un auspicabile ridistanziamento tra politica e diritto lo dico col punto interrogativo come giurista vorrei potervi credere a dispetto di ogni scetticismo anche perché una cosa sembra comunque certa non può esservi buon uso del diritto senza una buona politica e viceversa prende la parola il professor Ernesto Lupo signor Presidente della Repubblica signor Antonella Silvia e Valerio Ambrosio autorità tutte che non menziono per la ragione che già diceva il professor Severino sono tante le autorità vorrei però specificamente dare rinnovare gli auguri per le nuove funzioni al Presidente della Corte Costituzionale che credo faccia la prima uscita pubblica qui in questa occasione gentile signori e signori ringrazio gli organizzatori di questo incontro di studio per avermi chiamato a ricordare Loris D'Ambrosio le circostanze imprevedibili della vita mi hanno portato a sostituirlo esercitando le sue funzioni occupando il suo ufficio sedendomi alla sua scrivania è difficile descrivere l'emozione che ho provato e che ancora provo facendo ciò da un lato non posso non esprimere soddisfazione per la stima che mi ha mostrato il Presidente Napolitano e per la possibilità che ho avuto di sottolineare l'importanza del ruolo svolto da Loris a servizio della Presidenza della Repubblica essendo stato egli sostituito da chi ha presieduto il massimo organo della giurisdizione in Italia dall'altro sono addolorato perché mi accompagna costantemente il pensiero che senza la scomparsa prematura di Loris tanto improvvisa da sembrare incredibile io non sarei nel posto che occupo non svolgerei l'attuale lavoro nell'estremo saluto che ebbi modo di esprimere il 28 luglio dell'anno scorso nella Chiesa di Santa Susanna definì Loris D'Ambrosio un uomo delle istituzioni in tutte le diverse funzioni da lui esercitate il suo impegno si è infatti estrinsecato in più istituzioni della Repubblica raggiungendo sempre significativi risultati nell'intervento scritto che ho preparato per l'incontro odierno ho indicato questi risultati ho perciò ripercorso l'impegno di Loris nelle diverse istituzioni e ne ho tratto poi indicazioni generali sul modo di essere presenti e di lavorare nelle stesse indicazioni utili soprattutto per i giovani studenti che sono qui presenti il limitato tempo a mia disposizione non mi consente di leggere l'intero scritto mi limito quindi ad elencare le tappe principali del servizio reso da Loris alle istituzioni della Repubblica tappe che in certo a qual misura sono state quasi tutte già menzionate dai precedenti relatori innanzitutto l'impegno della magistratura inquirente è precisamente nella procura della Repubblica di Roma quando dopo il barbaro assassino del collega Mario Amato gli subentrò condusse le indagini e sostenne l'accusa nei processi per fatti di terrorismo neofascista instaurando un collegamento con i magistrati di altre procure e organizzando ex novo un archivio di grande utilità per le indagini delle diverse procure successivamente l'impegno ministeriale per la redazione del nuovo codice di procedura penale che è quello che anche se con successive diverse modifiche oggi voi studenti studiate questo impegno mi consentì di conoscere e di apprezzare subito Loris D'Ambrosio l'obiettivo del codice del nuovo codice coinvolse a diverso titolo in quegli anni varie commissioni ministeriali ma soltanto due persone vi si dedicarono a tempo pieno una delle quali fu appunto Loris sono convinto che senza l'apporto di questi due magistrati il lavoro di elaborazione dell'unico codice emanato nel periodo costituzionale non si sarebbe completato almeno nel breve termine fissato dalla legge delega successivamente impegno di Loris nell'alto commissariato antimafia e la successiva collaborazione con Giovanni Falcone quando questi essendo stato nominato direttore generale degli affari penali propose a Loris di dirigere l'ufficio studi dalla sua direzione come è stato già ricordato in tale posizione D'Ambrosio come ebbe a modo di scrivere il ministro a conso nel 1994 ideò e redasse cito le parole del professor Conso quasi tutti i provvedimenti legislativi emanati dal governo negli ultimi anni in materia penale fine della cesazione in essi compresi quelli successivi alle stragi di Via Capaci e di Via D'Amelio tutti questi provvedimenti hanno poi costituito la base della normativa contro la criminalità organizzata adottata dalla intera comunità internazionale anche per contrastare i fenomeni del riciclaggio e per aggredire i patrimoni mafiosi Loris fu poi capo di gabinetto di quattro ministri della giustizia Caglianiello Flick Viliberto Fassino ininterrottamente dal marzo 1996 all'agosto 2001 nel testo scritto ho riportato le valutazioni altamente elogiative che tutti i quattro ministri hanno espresso sulla collaborazione prestata da Loris il professor Flick che saluto perché è presente ha recentemente scritto una lettera ideale a Loris come premessa di una lezione dedicata appunto a Loris d'Ambrosio e ha sottolineato l'apporto che Loris dette alla sua opera di ministro successivamente impegno nel giudizio di legittimità di Cassazione nell'agosto 2001 Loris ritornò in magistratura e fu destinato alla procura generale presto la corte di Cassazione dove fu assegnatario secondo la relazione scritta dal portatore generale dall'epoca di citazione alcuni dei procedimenti più impegnativi pervenuti all'ufficio fine dalla citazione ed ottenne alla fine dei quasi tre anni del servizio vi prestato un giudizio di magistrato tra virgolette eccezionale giudizio dovuto sia alla sua preparazione tecnico professionale sia alle sue qualità morali e caratteriali l'attuale procuratore generale Cassazione Gianfranco Ciani qui presente ricordava ancora in una nostra conversazione di qualche giorno fa l'atteggiamento di Loris sommesso e disponibile verso l'esigenza dell'ufficio l'esercizio prolungato del potere ministeriale non aveva inciso in alcun modo sulla sua assenza di ogni presunzione e poi parte finale importantissima la collaborazione innanzitutto con il presidente della Repubblica Ciampi che dal maggio 2004 lo volle collaboratore a tempo pieno dopo aver sperimentato una collaborazione di Loris part-time e infine l'attività di consigliere per gli affari di giustizia del presidente napolitano che istituì l'apposito ufficio organizzato e diretto perfettamente da Loris come ho potuto sperimentare direttamente e vedere direttamente in questo ultimo periodo in cui sono stato io chiamato a sostituirlo per esprimere l'apporto dato da D'Ambrosio alla nostra più elevata istituzione nel periodo dal 2006 al 2012 è sufficiente ripetere le parole scritte dal nostro presidente a premessa del volume che raccoglie i suoi interventi sulla giustizia cito le parole del presidente quanto mai illuminanti su quello che è stato rapporto di Loris D'Ambrosio nessuna delle pagine che seguono è stata da me concepita e definita senza essere discussa e ponderata punto per punto con Loris D'Ambrosio ogni intervento in materia di giustizia da me compiuto nella qualità di presidente della Repubblica e di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura porta il segno del Consiglio e della collaborazione che il dottor D'Ambrosio mi ha per sei anni prestato con somma competenza serietà discrezione l'indicazione di queste qualità del servizio prestato da Loris segna il passaggio alla seconda parte del mio intervento sulla base della descrizione di come egli ha assolto i diversi impegni istituzionali è possibile delineare un modello di presenza e di lavoro nelle istituzioni pubbliche somma competenza di Loris ha rilevato il nostro presidente essa è stata il frutto del continuo studio che ha accompagnato la sua attività lavorativa è impressionante il numero di pubblicazioni e di relazioni da lui tenute ha terminato i suoi giorni negli uffici di una casa editrice per pubblicazioni giuridiche l'attività di studio e la cura di pubblicazioni non riduceva peraltro il suo apporto lavorativo tutte le testimonianze tra virgolette che ho trascritto sottolinano il massimo impegno e la completa disponibilità di Loris verso le esigenze dell'ufficio in sintesi impegno con spirito di servizio la cui qualità traeva alimento da una preparazione continuamente aggiornata e da doti morali particolarmente elevate ma mi piace ritornare su una specifica caratteristica del lavoro istituzionale di Loris che ho segnalato sin dall'inizio del mio dire la fattività e cioè la capacità di produrre risultati concreti e di raggiungere gli obiettivi perseguiti soprattutto nell'attività organizzativa ed amministrativa essa si verifica se si possiedono alcune qualità che Loris aveva innanzitutto l'apertura alla collaborazione con le altre persone all'interno dell'istituzione e con le altre istituzioni la quale presuppone la capacità di percepire le esigenze degli altri ancora l'equilibrio delle proprie posizioni ricordato con lo stesso termine da più di un intervento ancora la ricerca con pazienza e tenacia di tessiture idonee alla soluzione del problema si è fattivi se si è consapevoli che in organizzazioni complesse e in un clima democratico poco o nulla di costruttivo si può conseguire attraverso l'attività di un solo individuo qualunque sia la posizione da lui occupata perché ogni risultato migliorativo è l'effetto dell'apporto convinto di più persone e di diverse istituzioni l'ampia diversità delle funzioni esercitate dall'ORIS inizialmente giudiziare poi prevalentemente amministrative in fine di ausilio alle funzioni del Capo dello Stato rende evidente la visione unilaterale e limitata dell'attuale polemica contro il collocamento fuori ruolo dei magistrati la posizione radicalmente negativa sul punto ignora sia le esigenze delle istituzioni pubbliche sia le qualità morali e professionali che si ritrovano in tanta parte della magistratura effetto sia della lunga preparazione che esige il difficile accesso a questa attività sia delle doti richieste da un responsabile suo esercizio come ebbe modo di affermare nel discorso di Combiato l'ORIS D'Ambrosio è stato sino all'ultimo un magistrato che ha tenuto fede con serietà al giuramento di fedeltà alla Costituzione inverando i connotati ideali di chi esercita le funzioni giurisdizionali in tutte le attività in precedenza elencate qualità ideali che allora ebbe modo di elencare che non ripeto qui anche se sono riportate nel testo completo in qualsiasi funzione da lui esercitata egli si è impegnato per preservare la giurisdizione e l'indipendenza della magistratura per questo l'ORIS nell'ultimo periodo della sua vita ha molto sofferto per il sospetto di avere voluto interferire su indagini in tema di mafia ricordo ancora una telefonata in cui chiedeva il giudizio di un amico prima ancora che del primo presidente della Cassazione sulla lettera in data 4 aprile da lui predisposta e dal segretario generale della presidenza indirizzata al procuratore generale della Cassazione ovviamente dopo che la lettera era stata diffusa con un comunicato della presidenza della Repubblica io gli espressi l'opinione che qui ribadisco è la posizione direi è resa ancora più doverosa dalle notizie giornalistiche che ho avuto modo di leggere stamattina in cui si si ritorna a parlare di questa lettera del 4 aprile 2012 ebbene io gli espressi l'opinione che la quale sono convinto che la sua attività l'attività di Loris nel predisporre questa lettera si collocava nell'ambito dell'ordinamento essendo volta ad auspicare primo che venissero esercitati i poteri di coordinamento delle indagini compiute da diverse procure della Repubblica due che all'uopo trovassero applicazione tutti gli strumenti legalmente previsti ivi compresi quelli contemplati dall'articolo 104 del decreto legislativo numero 159 del 2011 che prevede la sorveglianza del procuratore generale della Cassazione sul procuratore nazionale antimafia e dall'articolo 6 del decreto legislativo numero 106 del 2006 che prevede la vigilanza dei procuratori generali sul termine di legge indicate dalla legge sul corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale sono i termini che prevede appunto la disposizione che ho citato da parte delle procure della Repubblica contrariamente ad alcune critiche ricevute e dai sospetti insorti la sua iniziativa andava e va apprezzata per avere incanalato nei binari della legalità ogni eventuale pressione e richiesta di intervento ricevute dall'esterno qualche giornale proprio stamattina considera quando meno il rituale così appunto con queste parole viene considerato questa lettera del 4 aprile 2012 la valutazione dei giornalisti ignora che secondo la sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2013 il Presidente della Repubblica è organo di stimolo nei confronti di altri poteri tendenti ad inerzie quindi la lettera del Presidente della Repubblica della Sottosegretario Generale della Repubblica si inquadrava nell'esercizio di questi poteri di stimolo di tendenziali e di inerzie segnalate tra l'altro in precedenza dallo stesso procuratore nazionale antimafia con un documentazione che aveva poi determinato l'invio degli atti al Consiglio superiore che aveva adottato nel 2011 una delibera proprio sul potere di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia in conclusione tutte le considerazioni che precedono tutto quello che oggi si è detto dai coloro che hanno preso la parola prima di me confermano il giudizio che il Signor Presidente ha espresso quando ha personalmente annunziato al Paese la scomparsa di Loris D'Ambrosio infaticabile e lealissimo servitore dello Stato democratico grazie prende la parola il Presidente della Repubblica Autorità illustri partecipanti all'incontro docenti studenti gentile Presidente Marcegaglia gentile professoressa Severino desidero innanzitutto rinnovare il mio vivo apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Università Luis in ricordo di Loris D'Ambrosio un'iniziativa che mi ha toccato istituzionalmente e personalmente per l'intensità del rapporto che ho intrattenuto con il collaboratore e l'amico cui era giusto dedicare non solo un memore omaggio ma una riflessione partecipe e accurata e questo è stato l'incontro di studio che grazie ad apporti meditati e di alto livello si è risolto in una trattazione esaustiva dei molteplici aspetti del lungo impegno e servizio di Loris D'Ambrosio e in una seria considerazione di problematiche essenziali da lui coltivate negli anni interventi che si sono succeduti da ultimo in quello del Presidente Lupo ho visto emergere la coerenza e continuità dell'ispirazione e del modo di operare di Loris D'Ambrosio nelle diverse anche assai diverse funzioni che gli è stato via via chiamato a svolgere quella coerenza e continuità che in sostanza sancisce la personalità e la moralità del civil servant e ricorro a questa espressione in quanto essa è più comprensiva del solo titolo di magistrato e ha rispetto a più tradizionali definizioni italiane finito per caratterizzare un modello di comportamento davvero indipendente da ogni connotazione particolaristica o partigiana cioè sinonimo di dedizione esclusiva all'interesse generale del Paese e alle sue istituzioni democratiche parto naturalmente dal titolo e dalla funzione di magistrato di cui Loris D'Ambrosio era orgogliosamente portatore il titolo di impiegati pubblici riferibile in Costituzione anche ai magistrati non dovrebbe mai essere usato in senso spregiativo e non può peraltro oscurare da nessun punto di vista la peculiarità e singolare complessità delle funzioni giudiziarie non c'è non c'è nulla di più impegnativo e delicato che amministrare giustizia garantire quella rigorosa osservanza delle leggi quel severo controllo di legalità che rappresentano come ho avuto più volte occasione di ribadire un imperativo assoluto per la salute della Repubblica anche la considerazione della peculiarità di questa funzione e l'inequivoco rispetto per la magistratura che ne è investita sono invece stati e sono spesso travolti nella spirale di contrapposizioni tra politica e giustizia che da troppi anni imperversa nel nostro Paese il superamento di tale fuorviante conflitto gravido di conseguenze pesanti per la vita democratica in Italia ha rappresentato l'obiettivo costante del mio impegno fin dall'inizio del mandato presidenziale e nessuno più di Loris D'Ambrosio mi ha aiutato a definirne i termini e le condizioni e nulla è stato più paradossale e iniquo che vedere anche Loris divenire vittima di quello che il professor Fiandaca ha chiamato un perverso gioco politico giudiziario e mediatico la cui impronta mistificatoria si è fatta risentire proprio oggi forse in non casuale coincidenza con questo incontro ma pur nel non sopito sdegno e nel cosciente rimpianto per la tragica scomparsa di Loris D'Ambrosio a noi tocca raccoglierne il testimone e cioè operare perché la politica e la giustizia e ancor più le istanze rappresentative dell'una e dell'altra cessino dichiarai dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura già nel febbraio 2008 di concepirsi ed esprimersi come mondi ostili guidati dal sospetto reciproco anziché uniti da una comune responsabilità istituzionale ci tocca operare in questo senso senza renderci a resistenze ormai radicate e a nuove recrudescenze del conflitto da spegnere nell'interesse del Paese forse come qui si è detto passando attraverso un ridistanziamento tra politica e diritto è molto importante il contributo che si deve attendere dalla Magistratura lo sguardo di Loris D'Ambrosio è stato sempre esigente e non acritico verso la sua casa verso il suo mondo nella convinzione che ciò fosse necessario nell'interesse della stessa Magistratura e di un suo rinnovato prestigio il Consigliere D'Ambrosio mi ha innanzitutto sempre spinto a mettere l'accento sull'importanza decisiva della formazione non solo in senso culturale tecnico giuridico ma in senso deontologico cioè come acquisizione di modelli di comportamento ispirati a quei valori e criteri l'equilibrio la soprietà e il riservo l'assoluta imparzialità e il senso della misura e del limite che sono il miglior presidio dell'autorità e dell'indipendenza del magistrato e sono certo che Loris D'Ambrosio avrebbe accolto con soddisfazione la forte coraggiosa riflessione autocritica che si è sollecitata e avviata giorni fa in un dibattito a Milano negli interventi di magistrati di grande esperienza e di indiscutibile fiera indipendenza e combattività ne dovrebbe scaturire anche tra i magistrati un'attitudine meno difensiva e più propositiva rispetto al discorso sulle riforme di cui la giustizia ha in dubbio bisogno da tempo e che sono pienamente collocabili nel quadro dei principi della Costituzione repubblicana infine il dottor Lupo ha detto l'essenziale anche sullo svolgimento da parte di Loris D'Ambrosio della funzione in cui è culminato il suo percorso al servizio delle istituzioni e lo ringrazio per aver ricarmato parole da me dette su Loris come consigliere del Presidente della Repubblica vedete l'esercizio del mandato presidenziale è obiettivamente un esercizio solitario per la stessa natura monocratica di questa istituzione esso può trovare un temperamento e un fondamento più sicuro solo nella qualità dei consiglieri del Presidente specie di quelli chiamati a dargli adeguato supporto in campi di sua particolare diretta responsabilità costituzionale io ho avuto la fortuna di potermi avvalere del Consiglio di Loris D'Ambrosio ed è ciò che mi lega nel ricordo alla sua famiglia e ai tantissimi che lo stimavano e gli vollerò bene grazie grazie a tutti grazie a tutti